Ennesima truffa ai danni degli anziani con vittima questa volta una donna di 85 anni di Aiello del Friuli. Nella mattinata di giovedì 18 luglio la donna si è vista presentare alla porta della sua abitazione due sedicenti tecnici idraulici con tuta di lavoro e pettorina catarifrangente, neutra però senza alcuna scritta particolare che però sul momento non ha destato sospetti nella donna. Uno dei due si è intrattenuto con la malcapitata a parlare mentre l'altro spostava mobili alla ricerca presunta di tubature da controllare. Dopo questa operazione lo stesso malvivente ha raccolto da dietro un mobile una busta con all'interno monili in oro e l'ha riconsegnata alla signora. Busta che è stata trafugata però poi in un secondo momento approfittando di un momento di distrazione della vittima. Solo al termine di questo fittizio intervento idraulico l'85enne si è accorta di non avere più in casa i monili in oro e allora sporto denuncia nel pomeriggio ai carabinieri della stazione locale con il maltolto che è stato quantificato in un valore di circa 5.000 euro e le indagini che sono tuttora in corso.